Delicarri di S in pectore. Per l'ufficialità a questione di giorni avrà pieni poteri sulla scelta del tecnico e dei calciatori, ma intanto Delicarri si sta muovendo. Ad esempio Federico Guidi era la prima scelta, gli era stato chiesto di aspettare qualche giorno, ma l'ex allenatore del Teramo ha optato legittimamente per la primavera della Roma. Accordo Biennale, non più tra i candidati Stefano Vecchi, ancora vincolato alla Feral Pisalos, cadenza 30 giugno 2023. Mai tra gli obiettivi Caneo, ex Torres e Mirko Cudini, comunque apprezzato per l'ottimo lavoro svolto alla guida del Campobasso. Perde quota Zeman, prende invece sempre più corpo l'idea Colombo, come già anticipato nel Tg8 di ieri sera. 48 anni originario della provincia di Lecco, Alberto Colombo quest'anno ha guidato il Manopoli sino allo storico traguardo del secondo turno della fase nazionale playoff. Pugliesi eliminati ai quarti dal Catanzaro di Vivarini. Stagione da ricordare, modulo adottato 3-5-2, calcio propositivo grazie ad una interpretazione dinamica aggressiva, naturalmente con elementi funzionali. Nel calcio infatti i sistemi di gioco sono sempre determinati dalle caratteristiche degli attori protagonisti. Si tratta tuttavia di un allenatore duttile, per esempio la guida della Reggiana. Nella stagione 2014-2015, Colombo utilizzava il 4-2-3-1. Gli emiliani centrarono le semifinali playoff giocando un ottimo calcio. Stesso girone del Teramo di Vivarini, che sul campo conquistò la storica promozione in B, poi cancellata dalle note vicissitudini. Oltre a Manopoli e Reggiana, Alberto Colombo ha allenato anche Propatria, Sio di Tirol, Alessandria, Vicenza, Arzignano e Virtus Francavilla.